bella a tutti ragazzi qui Aghemel ed oggi siamo qui in questo nuovo video oggi ragazzi non sono solo ma sono in compagnia di BetXTV saluta salva a tutti ragazzi oggi ragazzi faremo due gare con la moto e con la macchina e ragazzi iscrivetevi al canale di BetX ve lo lascio qui sotto in descrizione vi dico che a 50 iscritti lui porterà un contest con un account moddato poi vi vorrei dire un'altra cosa che se questo video raggiunge i 70 like avrete un contest di un account moddato o per black ops 3 o per fifa 16 o per gta a vostra scelta ragazzi ovviamente quindi spolliciate e iscrivetevi anche al canale di BetX che a breve ci sarà il contest ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con questa gara che sono partito malissimo ma io non sono primo per ora e sto iniziando a salare male ma io con le moto non me la capo vediamo un po' se sta facendo ragazzi troverete anche un video nel canale di BetX sempre delle gare o ce l'abbiamo fatta ma siamo ultimi vediamo subito di recuperare oddio si casca ecco un'altra cosa ragazzi a breve arriveranno anche altre collaborazioni con gamer quindi state pronti a nuovi video sia nel mio canale e sia nel suo canale è vero ragazzi ragazzi possibile non mi riesce a prendere questo fottuto checkpoint dai eh niente ragazzi ragazzi non me la cavo tantissimo con le moto me la cavo molto di più con i deathmatch vero BetX eh sì diciamo che nei deathmatch sei un boost rispetto che nei regar quindi ragazzi vi porterò anche vi porteremo dei run and gun modalità di questo genere ma ora andiamo subito qua giù nel cantiere siamo penultimi intanto questo qui con la moto lì ci ha superato i pizzi come si chiama dai dai betX com'è laggiù la situazione? eh diciamo che uno ma mi ha mi ha asfaltato il cazzo io intanto muoio a caso muoio a caso non sono terzi io per ora diciamo diciamo perché c'è no due dietro le calcari eh io sono proprio ultimo ragazzi vi lascio il mio id qua sotto in descrizione troverete anche l'id il canale di BetX e anche il suo id se magari volete partecipare anche voi alle gare e iscrivetevi come al solito al canale di BetX dai concluderò in ultima posizione ormai è così oddio il salto ecco fatto sono ultimo vabbè ah ma come si fa lì vabbè ragazzi scusate non sono un campione però vedrò di migliorare per voi tanto ai 7 secondi vabbè la prima gara ormai ragazzi finisce qui ci vediamo alla prossima gara ragazzi seconda gara stavolta con le macchine siamo sempre in compagnia di BetX dai ragazzi dai dai gmaili in questa gara dovrei spaccare di brutto sono in pole position vai subito c'è un drift qui come si fa? e qui bisogna bisogna mettere bisogna usare il freno a mano mi sa BetX eh non lo so io sono caduto malamente nel frattempo boh zitto che ce l'ho quasi fatta eh ma qui si può anche citare ma 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 cacare guarda io l'ho assoluta anche non 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 sterza si ma qui si può citare benissimo BetX eh io ce l'ho fatta devo assolutamente recuperare intanto il quarto ce l'abbiamo lì davanti io sono stato doppiato sono ultimo la sulta non è adatta per fare due problemazioni dai superiamolo con la nostra bellissima NTT terzo giro ragazzi siamo sempre incollati a quello davanti a noi che ora è schiantato si siamo quarti bene ragazzi benissimo almeno mettiamo alla terza posizione tanto BetX now come alzo mettiamo un pochino la visuale in prima persona rallentiamo e giriamo oh BetX prova a farlo in prima persona è più facile eh dai ci troviamo ecco e e mischiamo vabbè ragazzi ormai ci vediamo oh ci ha superato quello lì sono stato doppiato vabbè cosa non ho preso il checkpoint vabbè ragazzi iscrivetevi al canale di BetX appena arriverà ai 50 iscritti lui porterà il suo contest e ragazzi cerchiamo di raggiungere i 70 like per avere questo contest speciale per i 1700 iscritti io vi ringrazio ragazzi e da Gemella è tutto ci vediamo in un prossimo video bella un saluto